Massiccia partecipazione di atleti allo stage di Karate Shitoriu organizzato dall'associazione sportiva Sakura guidata dai tecnici Giuseppe e Andrea Giuffrida, che quest'anno ha avuto il piacere di ospitare Soshi Ivano Di Battista. L'evento si è svolto nella mattinata di domenica 22 dicembre presto l'impianto sportivo Sicilia Sport di Sciacca. A dirigere lo stage è stato Ivano Di Battista affiancato dai tecnici Pippo e Andrea Giuffrida. Gli atleti sono rimasti molto contenti per il programma che si è svolto durante lo stage. La Sakura inoltre ha deciso di omaggiare con la nuova tuta sociale agli atleti che prenderanno parte agli Open di Malta che si svolgeranno a marzo 2020. La manifestazione si è conclusa con la consegna di un regalo a tutti i partecipanti e con un rinfresco per gli auguri natalizi. I tecnici Pippo e Andrea Giuffrida si ritengono molto soddisfatti per questa bella giornata di sport che ha visto tutti gli atleti, dai bambini agli adulti, seguire con grande voglia ed entusiasmo due ore di intenso allenamento e colgono l'occasione per ringraziare tutto lo staff, gli atleti e i genitori per l'ottima riuscita della manifestazione e il soci Ivano Di Battista per il grande supporto tecnico. Lo stage, come si ricorderà, era iniziato sabato presso la palestra Sakura, per poi concluderseli domani alla Sicilia Sport. Ivano Di Battista è maestro e direttore tecnico della TKA Italia.